Ci vado Speriamo che sia un nabbo Aspetta Nooo 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 Aia Sei pazzo Nooo No positivo o negativo? Positivo Ok Cioè dipende Ok Madonna ridono i nani Se io ammazzo Guarda che ridono Madonna ragazzi Ma io sto uccidendo qualsiasi persona Senza usare le lame Adesso vado La spada Ah E io per forza I nani I nani I nani Ok Ucciso Ucciso Ucciso